Il Volo Qantas 762 Mi dispiace, questo posto è occupato da un'altra signorina. Ma con la signorina ero io. Ma sai che non l'avevo riconosciuta? Vuole assaggiare una fettina? È salame calabrese. Grazie, pure io sono calabrese. No. Pure io un coltello. Siccome vado a un paese che non conosco, non si sa mai. Lo porto per difesa personale. Va bianco, bianco vini, va bianco. Che non è qua tutti, va bene. Come presenza è molto distinto. Che mestiere fa? Il manovale? No, veramente fa il capostazione. Complimenti, signorina. Io vivo in Australia da 22 anni e ci assicuro che da quelle parti la moglie di un capostazione è una donna di grande rispetto. Una vera signora. Beh, sì, non mi posso lamentare. Ha una bella casa, ha uno buono stipendio, una macchina americana. Tutto quello che ha serve, insomma. Questo è Salvatore. E questo è Faustino. Anche voi andate in australe per vi sposare? La cugina mia e io ci siamo già maritate, per procura. Ma vostro marito l'avete mai veduto? No, io lo conobbi a cinque anni, quando eravamo all'assilo infantile. Io Faustino non lo conobbi mai. Mi bastò di guardarlo in fotografia che mi piace. Anche queste dietro si sono sposate per procura. Di che razza sono? Vengono da Lugoslavia e vanno in Australia a sposare dei compaesani. Santa Orsolina mia, perdonami per questo grande imbroglio che affaccia D'Amedeo. Ma se volevo cacciarmi da questa vita... A qualcuno ci dovevo dare la fregatura. Grazie, Santo.